maestro ho finito piacere olga piacere orlando lei accorda i pianoforti e io accordo i pianisti però l'occorrenza accordo anche gli accordatori da cos'è che si sta difendendo? è da un po' di tempo che parlo con un ragazzo che ero lo vedo proprio ma parliamo un po' in dialetti così come vedo lei in questo momento ha pisciato dentro la cassa armonica può capitare a un certo punto che un pezzo incastrato male nel tempo faccia storcere il mobile ecco io davanti a me la foto di un mobile storto quindi mi convirrebbe farmi curare all'Ikea e contro chi stai protestando? Mantera è capitano della cultura 2019 quest'idea che bisogna insegnare alla musica è la musica che deve insegnare a noi io Potenza la vedo come una piccola Dubai ma sei sicuro? mai stato sicuro di niente non ti risulta? bel ripiego di merda ci capo con quel ripiego a guardarti mo' nessuno direbbe che siamo la stessa persona campioni del mondo ti ho salvato la vita ma l'ho fatto per me a guardarti mo' nessuno direbbe che sia la stessa persona a guardarti mo' nessuno direbbe che sia la stessa persona e l'ho fatto per me Grazie.